Grazie a tutti, grazie a tutti. Siamo tutti l'Ottar, siamo tutti l'Ottar. Beh, questa Assemblea sicuramente dà la forza che comporta, perché è tutt'altro che un'Assemblea elettorale. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Io sono qui anche per dare un grande abbraccio a questi compagni e a questi compagni di Napoli, di Esco Pazzo. Loro mi hanno accorta, come altri di voi, nel momento in cui, insieme al Movimento Montar, disobbedivo alle imposizioni dei prigionari del territorio. Grazie a tutti. 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 di rivoluzione, ho sentito parlare di autodeterminazione ed è questo che mi fa dire che al di là della scadenza elettorale c'è qualcosa di molto più importante di Cammino ed è questa speranza concreta che parla anche del ricordo delle lotte passate e anche delle sconfitte passate, perché noi abbiamo nelle nostre mani anche la necessità di dare compimento ai tanti che hanno lottato e sono morti per quelle lotte. L'industria sociale non è inelucabile se il popolo si alza in piedi e decide non di entrare nei palazzi, nessuno ha l'idea di entrare nei palazzi, ma che se li hanno i palazzi e di distruggere. Ed è portato a trovare diritti reali, che noi possiamo pensare ad un futuro diverso possibile. è un mondo che deve essere concreto, che deve essere fatto di azioni quotidiane, che deve essere fatto della capacità rivoluzionaria di disobbedire a queste leggi e di cambiare. ricordiamo, ho visto che voi vi siete ispirati alla Costituzione italiana del 48 nell'ostilare il vostro programma, diciamo che quella Costituzione non è mai stata attuata, non è stata attuata ed è stata messa in piedi per dare un contentino a quegli operai, a quegli resistenti che avevano lottato contro il fascismo e poi negli anni 50 si sono fessi buttati fuori dalle fabbriche o confinati nei reparti confino. E allora era già chiaro qui dall'inizio, quando in quella Costituzione non fu introdotto quello che era l'articolo che rivendicava il diritto di resistenza. Il diritto di resistenza che compare in tante Costituzioni dell'America Latina, in tante Costituzioni, nella Costituzione italiana non è entrato. Ed è invece a quel diritto di resistenza che dobbiamo appellarci e il diritto di resistenza che dobbiamo portare avanti. E la resistenza si esprime attraverso il conflitto. A quel diritto di resistenza si esprime attraverso il conflitto. E noi ragazzi e ragazzi a cui avrebbero lasciato davvero un deserto. Ma che non mi rassegnate a questo deserto. Le mura possono accadere. Ci vuole la volontà di farle cadere. Un'ultima cosa. Io credo che qui in mezzo a voi a leggi e sorride uno spettro. Quello che girava per l'Europa e che adesso gira per il mondo. Quello spettro non può essere ucciso. Quello spettro è un uomo. Non fate paura. Non fate paura. Tanti avranno paura di questa nostra esperienza e di questa nostra supporta. Grazie. Alla volta. Grazie.